...le parti ad alto rischio, dove ci sono malati con malattie infettive, malati fragili e nell'RSA. Negli altri reparti ospedalieri saranno direttori sanitari e pazienti che hanno ricoverato... ...che tempo... ...i cuoricini a me sono io e Giole... ...ho detto prendi il vino e cerchi lo chiedi... ...sono io il vecchio che gioca a palloncini, perché io li devo scoppiare tutti, anzi ora ne scoppio uno... ...e scoppio i palloncini perché tu... ...e non sparare con la pistola... ...e questa non devi sparare uno... ...dia cercando... ...e il tuo caso... ...oddio... ...ma che cosa... ...maschina... ...spioppe... ...spioppano... 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 ...dove è il mio nonno... ...nonno... ...nonno... ...bossettino... ...dieni qua... ...facciamo una foto... ...facciamo la foto... ...diciamo la foto... ...viattimi un po' non ci rimane... ...e... ...aspetta... ...forse questa luce... ...vediamo... ...e... ...contra luce... ...no... ...e perché volevo beccare... ...questo non volevo beccare... ...heee... ...pugni in destra... ...dai... 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 ...do vero... ...ammazza... ...ammazza che fisico... ...è un cuore un po' strano... ...como proprio... ...dammi che gonfiamo... ...ma soffi... ...quanti bastano questi... ...quanti le vuoi... ...ma che ce ne fa... ...basta... ...basta palloncini... ...ma... ...non ce ne sono più... ...tan... ...metti un po' di musica... ...dai... ...eh ma vuoi fare già un bridesino... ...ta-ta-ta... ...ma non puoi fare anche quello... ...ma io... ...questa mostra ammazzazzerei... ...o ti senti freddo? ...io non c'ho proprio nulla... ...li devo fare... ...inciclabili o... ...ma... ...fari come si... ...buttiamo un po'... ...e spacchiamo tutto... ...facciamo un macello... ...como dice Geni... ...facciamo un macello... ...facciamo un macello... ...chi è... ...Gendi dice così... ...gendi dice così... ...dai zio... ...vieni... ...facciamo un macello... ...e cominciamo a saltare... ...e... ...ma la prima volta che l'ha detto... ...mi ha guardato... ...ha fatto una pausa... ...mi ha guardato e fa... ...sai... ...la bambina ti aspetti che ti dice una cosa... ...invece mi ha stupito e mi fa... ...Zio... ...vieni con me... ...che facciamo un macello... ...minti... ...ha rimasto... ...non ci ho capito più niente... ...e se andate a fare un macello... ...esatto... ...e se andate a fare un macello... ...esatto... ...sì... ...va bene così... ...sicuro... ...essendo quello ufficiale... ...sicuro... ...quasi una specie di... ...un ufficioso... ...esatto... ...da Edgar... ...un musicore inglese... ...e... ...è era una serie a... ...è era una serie a una serie a una serie...